Ciao ragazzi, oggi vi parlerò di Windows 11, delle sue novità e di come installarlo su tantissimi computer anche quelli che fino adesso non l'hanno potuto usare Per l'uscita di Windows 11 vi avevo fatto un video in cui vi parlavo un po' di com'era in quel momento e vi dicevo che sì, bello, ma non ne sento la necessità Nel frattempo sono usciti altri aggiornamenti, sono uscite altre cose e l'hanno migliorato notevolmente Io lo stavo già utilizzando da inizio agosto perché faccio parte del programma Insider, quello di Luppatori ma queste novità poi pian pianino sono arrivate a tutti quindi Windows 11 adesso è disponibile per tutti, per tutti quelli che hanno un computer adatto ovvero ci sono state un po' di polemiche perché non tutti i computer potevano installare Windows 11 richiedeva alcune cose un po' particolari, un po' restrittive diciamo Bene, in questi giorni mentre ho ripreso in mano il mio vecchio computer che è un Dell XPS 15 del 2014, quindi ha otto anni ormai questo computer non era idoneo al programma Windows Insider scusate, non era idoneo a installare Windows 11 ma così ho voluto fare una prova e vi spiego come ho fatto sono andato qui in basso destra dove c'è quest'icona con l'assistente delle notifiche e cliccando lì vi si apre questo pannello con tante scelte se voi andate a cliccare su tutte le impostazioni vi si apre questo menu con un sacco di scelte che vi consiglio di esplorare e di controllare tutte andate su aggiornamento e sicurezza e da qui in fondo trovate il programma Windows Insider cliccando sul programma Windows Insider vi farà all'inizio, se non avete mai partecipato vi chiederà di iscrivervi, vi chiederà quale profilo associare fatto questo, probabilmente vi farà fare anche un riavvio magari e poi vi troverete davanti a questa pagina qua con diverse scelte allora, diverse scelte perché se voi cliccate qui sopra sull'impostazione di Insider vi dà tre scelte che sono versione di anteprima, canale beta o canale dev che sarebbe quello developer, sviluppatori allora, normalmente su quasi tutti i computer che ho mi dà questa scelta non su tutti però, perché se vi ricordate l'Arcbox di cui vi ho fatto una recensione parecchio tempo fa che utilizzo ancora, vi consiglio bellissimo non so se c'è ancora però il video ve lo lascio qua sopra su quello mi lascia utilizzare solo la versione di anteprima non so se dipende dalla versione di Windows non so se dipende da qualche limitazione che hanno applicato lui però comunque, normalmente ci sono queste tre scelte se voi vi iscrivete al canale beta che è quello che oltretutto vi consiglia ovvero, ideale per gli early adopter cioè quelli che vogliono usare il prima possibile le nuove cose questa build di Windows 11 sono più affidabili rispetto alle build del canale sviluppatori con gli aggiornamenti convalutati da Microsoft il feedback degli utenti è estremamente importante in questo caso quindi cosa vuol dire? una versione che è un po' una via di mezzo tra quella proprio degli sviluppatori e quella che andremo ad utilizzare è quella che uso da mesi, mesi, mesi e mi sono sempre trovato bene quindi anche su un computer vecchio che non rispetta i requisiti minimi di Windows 11 attivando questa opzione del canale beta nel momento in cui vado sugli aggiornamenti quindi clicco su Windows Update cercando poi gli aggiornamenti vedo che ho eseguito l'aggiornamento a Windows 11 e mi basterà andare a fare un riavvio per installarlo quindi vado a farlo subito e andiamo a vedere che cosa succederà ovvero installerà Windows 11 che vuole che succeda spero perché lo vado a installare nonostante vi abbia detto nell'altro video che sì, ok, bello ma non ne sento la necessità ok, adesso invece lo vado a installare perché sono state aggiunte un sacco di cose ad esempio una cosa che per il momento c'è solo negli Stati Uniti ma presto arriverà anche in Italia è la possibilità di installare le applicazioni del Play Store di Android vi avevo già fatto un video in cui vi spiegavo come usare le applicazioni del vostro telefono sul computer in quel caso però cosa facevamo? andavamo a utilizzare le applicazioni che abbiamo installato sul cellulare in questo caso invece quello che vado a fare è un po' diverso ovvero vado a installare le applicazioni direttamente sul computer sul computer andrà a installare anche una versione diciamo di Android che voi non è che andrate a vedere non è che vi diventa un cellulare il computer però potrete installare le applicazioni direttamente che utilizzate anche sul vostro cellulare questo si fa tramite lo store di Amazon e quindi un sacco di applicazioni per il telefono sul computer sono veramente curioso di vedere come funzionerà vi ripeto in questo istante in cui sto registrando il video che siamo giovedì 24 febbraio 2022 non è ancora disponibile in Italia se non con un po' di trucchetti di escamotage vai a installare quello, fai quello, attiva l'altra cosa non è una cosa propria nativa con le nuove versioni che stanno per arrivare però dovrebbe diventarlo questo come tante altre cose che sono migliorate su Windows 11 quindi ok ho deciso di adottarlo anche su questo computer anche se non lo uso moltissimo perché sono innamorato del mio Chromebook e vi lascerò il link anche di quello però un computer come Windows mi fa sempre comodo un portatile aggiornato e funzionante ragazzi che spettacolo lo sto usando da una settimana circa oggi è il 6 di marzo e va alla grande va veramente bene è rinato completamente probabilmente anche perché comunque dicevo ha otto anni per cui negli anni si è accumulato magari qualche baguettino qualcosa per cui ripartire con un sistema operativo nuovo nonostante abbia fatto solo un aggiornamento non abbia fatto un'installazione pulita l'ha aiutato veramente tanto va benissimo funziona alla grande soddisfattissimo di aver fatto questo aggiornamento e ve lo consiglio fatelo perché possono succedere cose belle detto questo non aggiungo altro di questo video è stato già abbastanza lungo per la piccola novità che sta arrivando però ci tenevo a raccontarvela vi ricordo di iscrivervi a Cali se il video vi è piaciuto ma non penso che vi sia piaciuto perché che video va comunque voi iscrivetevi mettete like se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video e mi fareste parecchi contento se vi iscriveste sì 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 assolutamente ciao 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 buona installazione buon aggiornamento vi ricordo che windows 11 è l'aggiornamento windows 11 è gratuito se avete il 10 vi si aggiorna automaticamente all'11 se il vostro computer rispetta i certi requisiti anche l'aggiornamento a windows 10 era gratuito sempre se il vostro computer rispetta i requisiti e basta quindi spero che il vostro computer rispetta i requisiti se non li rispetta come era il caso del mio portatile potrebbe essere che attivando la modalità insider poi diventi se disti lo stessi requisiti quindi ciao ciao buona installazione